Allora qui abbiamo detto 42LC che sta per Long Cruise, scafodi lo Stuzzi, interni abbiamo detto di Nauta, parliamo di questa barca che mi sembra che ha già un impatto positivo sul mercato dai numeri che abbiamo appreso di barche vendute, qual è la fascia di clienti a cui si rivolge questa barca, per quale utilizzo? Allora con il 42 siamo andati a completare intanto la gamma Long Cruise che ha avuto come partenza il 46 e due anni fa il 52LC, quello che oggi va a fare il 42LC è sicuramente andare a recuperare una fetta di mercato che è quella soprattutto del nord Europa dove per via delle marine e del tipo di utilizzo hanno taglie inferiori, quindi erano già diversi anni che i clienti del nord Europa chiedevano un prodotto fresco, giovane che fosse all'altezza al passo dei tempi ma di una taglia inferiore, quindi oggi crediamo che quel 42LC sia veramente il prodotto ideale che ci possa far fare dei numeri ancora superiori a quelli che sono stati 46 e 52LC e poterla soprattutto tornare a vendere al nord Europa, non peraltro abbiamo già venduto 3 o 4 barche in Germania, in Olanda, in Danimarca dove comunque i competitor sono molto agguerriti, quindi questo è anche un motivo di soddisfazione. Abbiamo la doppia anima della barca perché il 42LC viene proposto come le altre 46 e 52 con il roll bar come standard e quindi tutto libero il pozzetto dalle manovre e quant'altro e poi per chi vuole avere ancora un pochettino un ulteriore brio diciamo così e un look un po' più sportivo possiamo offrirla senza il roll bar e senza le panche a poppa quindi dare questo tono un pochettino più corsaiolo alla barca. Come questa dove siamo noi, questa non ha il roll bar, la sorella maggiore qui a fianco invece ha il roll bar. Esatto e devo dire che comunque divide il mercato nel senso che alla fine un 50% accetta il roll bar perché capisce quello che è il vantaggio di un roll bar e un altro 50% che magari è rimasto un pochettino più legato alle tradizioni preferisce avere una barca un po' più sportiva. Questo impatto divisivo del roll bar e anche considerando l'impatto invece pratico, cioè a cosa serve il roll bar al di là dell'aspetto poi diciamo del gusto, mi fa pensare a una domanda, è mai stato pensato a un possibile kit? Cioè il roll bar si può eventualmente mettere dopo oppure togliere se uno non dovesse piacere? Pure nasce con o senza il resto? Allora con la vetroresina tutto è fattibile, però chiaramente vi do magari un aspetto tecnico che magari nessuno percepisce. Intanto la prima cosa per noi è sempre il design è molto importante, quindi mettere un roll bar verticale come un palo piazzato lì è sì più facile ma a livello di design non trasmette niente. Quello che noi cerchiamo di fare è coniugare sempre il design con la sicurezza, quindi questo roll bar ha dietro comunque una ricerca, uno studio, i materiali, il carbonio e tutta una serie di soluzioni che possano coniugare comunque l'eleganza, le forme con la praticità di utilizzo e la piena sicurezza. Chi ha provato il roll bar e che arrivava dai nostri precedenti Gran Soleil Performance comunque è, come dire, profondamente convinto della scelta che ha fatto e non tornerebbe più indietro. Fabio, la versione del 42LC che è qui al Salone Nautico di Genova, in coperta, ha altre cose che sono indicative sull'utilizzo della barca, in particolare la volgiranda e quindi raccontiamo un po' com'è il layout di coperta di questa barca. Allora, il layout di coperta di questa barca è molto flessibile, nel senso che comunque l'armatore può veramente costruirsi a livello di piano di coperta quello che è l'oggetto del suo desiderio. Questa barca, nello specifico, è un pochettino un mix, nel senso che ha un albero maggiorato, come giustamente detto te Fabio, un'avvolgiranda. Oggi, grazie anche alla tecnologia, le rande avvolgibili hanno fatto passi da gigante, quindi stecche verticali, forme di allunamento positivo e quant'altro. Per cui, non viviamo del passato dove magari tutti consideravano queste rande avvolgibili dei lenzuoli. Quindi, in realtà, oggi camminano e camminano veramente tanto. Questa barca, in particolare, ha il fiocco sia autovirante e la possibilità di poter mettere un fiocco 110 con le due rotaie messe sopra la tuga e quindi dare ancora un po' il carattere più sportivo di questa barca e ha la predisposizione per essere stato su un Coziro o un Gennacher con il suo arrotolatore e rinviato tutto in pozzetto. Invece, passando agli interni, questa è la versione 3 cabine. Ci può essere anche una versione 2 cabine che è, insomma, un uso ancora più armatoriale, diciamo così? Sì, esatto. Questo sempre per rispondere un po' alle richieste del mercato e soprattutto per i clienti del Nord Europa dove in realtà loro vivono magari parecchio a bordo ma non con tante persone. Quindi abbiamo creato questa versione 2 cabine dove verrà data tantissimo spazio quindi a tutto quello che è il discorso della cucina e del suo layout dietro la cucina per cui ampi gavoni, stivaggio, questo permetterà veramente a qualcuno che vuole mollare gli ormeggi di avere tutta l'attrezzatura necessaria per passare anche lungo tempo a bordo. La cabina di prua, invece, armatoriale per definizione, ha qualche cura particolare, ha qualche dettaglio particolare che vuoi sottolineare? Beh, intanto il dettaglio che mi viene così subito in mente è che oggi, grazie un po' alle nuove forme di carena e al tipo di layout la cabina armatoriale è degna di essere considerata una cabina di un 50 piedi. Quindi l'armatore può tranquillamente dormire con la testa verso prua, cosa non assolutamente comune nella maggior parte delle barche ha il suo bagno col suo box doccia indipendente e soprattutto tanto 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 stivaggio che è quello che imbarca non basta mai quindi abbiamo veramente pensato alle persone che vogliono passare tanto tempo a bordo.